Stamattina siamo molto focalizzati sul mondo dell'istruzione, in maniera particolare della scuola, perché dall'esperienza del dirigente scolastico Luigi Italienti, condensata nel suo libro Al di là delle sbarre, partita proprio dall'interno di un istituto penitenziario, passiamo agli istituti scolastici che tutti i giorni vengono frequentati dai nostri figli, dai vostri nipoti. Sono qui con noi la professoressa Angela De Leo e la professoressa Antonietta Centola per parlare di un altro interessantissimo progetto che ha preso forma durante quest'ultimo anno scolastico, a partire dall'anno che ci siamo appena lasciati alle spalle e del quale ci parleranno perché è un progetto molto interessante per tutta una serie di motivi. Non vi svelo nulla se non il titolo del progetto, con la scuola dare voce alle emozioni per accogliere e includere. Professoressa De Leo, ci vuoi dire di che cosa si tratta? Sì, è un progetto che intanto siamo l'istituto di maggio, l'indirizzo economico nello specifico, questo è un progetto che la nostra scuola ha colto già da un po' di tempo e che è un progetto supervisionato dalla LUIS, quindi ha anche una cornice insomma importante e si è concretizzata nella nostra classe, quindi accolto da tutto il nostro consiglio di classe, con un progetto proprio volto a creare dei momenti di alfabetizzazione emotiva, proprio perché crediamo molto nel fatto che non sia soltanto importante trasmettere delle nozioni, ma anche e soprattutto creare una relazione all'interno del gruppo classe, tra noi docenti e i ragazzi e tra i ragazzi stessi, che essendo ragazzi di prima provengono anche da un altro ambiente. E se vogliamo la prima particolarità del progetto è stata proprio la vostra intuizione, il vostro coraggio anche di realizzare all'interno di un istituto tecnico, il Luigi Di Maggio di San Giovanni Rotondo, appunto, un laboratorio sulle emozioni. Esatto, proprio perché volevamo affiancare a questa enorme capacità di trasferire insegnamenti anche tecnici e quindi specialistici, professionalizzanti, che sono ovviamente molto importanti, ma volevamo affiancare anche questa parte dell'insegnamento, ecco, ad accogliere le proprie emozioni e a saperle riconoscere, proprio perché abbiamo studiato, non soltanto intuito, che dare un nome alle emozioni è fondamentale per i ragazzi di quell'età, per poterle riconoscere e quindi trasformare quelle sensazioni che magari sono amorfe e non definibili e quindi per quello fastidiosi che possono quindi dare problemi nella relazione, nel momento in cui vengono definite, catalogate, riescono a essere gestite meglio, a tutto vantaggio della relazione con il gruppo e con i docenti. Sì, io sono profondamente convinto del fatto che la scuola deve essere un ambiente dove gli allievi non imparano solo a conoscere il mondo intorno a loro, ma anche il mondo che hanno dentro se stessi, quindi la prima conoscenza, forse quella più importante, è proprio la conoscenza di se stessi. Professoressa Centola, siete d'accordo? Sì, sono d'accordo in pieno, in toto. Devo aggiungere soltanto che abbiamo scelto i ragazzi della prima FM per un motivo semplice, se vogliamo. Sono ragazzi che vivono l'adolescenza, sono nel pieno dell'adolescenza e quindi in loro le emozioni sono presenti e persistenti in modo indefinito. A volte esplodono in modo così irruento, altre volte si chiudono dentro, quindi questo percorso sulle emozioni è fondamentale. Io credo che sia fondamentale perché permette loro una chiave di lettura maggiore delle loro conoscenze, delle loro debolezze, dei loro punti anche di forza, perché no, da cui partire per poter poi arrivare ad essere il giovane adulto, il ragazzo pieno di speranze ma anche di voglia di fare, che poi è quello che noi ci promettiamo. Non è soltanto un percorso di formazione il nostro, il nostro è proprio, come diceva lei, un'alfabetizzazione emotiva. I ragazzi arrivano da due anni e mezzo di Covid ed è importante. Hanno subito veramente un vero e proprio isolamento forzato, subito lo dico per ovvi motivi, lo sappiamo tutti e quindi questo progetto fatto in quella classe, in una prima, credo che sia l'ideale, la cosa giusta. Speriamo di poterlo anche portare avanti nel bienio successivo e con le future prime. Anch'io sono convinto che la scelta di farlo nel primo anno proprio sia stata particolarmente azzeccata. Professoressa De Leo, come si è sviluppato questo laboratorio? Quali sono state le attività che avete proposto? Abbiamo proposto una serie di attività, a cominciare dall'accoglienza, un'accoglienza particolare, anche lì con la musica molto orientata sull'inclusione. In particolare però l'ultimo incontro è stato quello che ha visto anche te coinvolto insieme al maestro Pagliara che secondo me è stato proprio l'apice di tutto questo nostro percorso perché proprio a proposito di alfabetizzazione emotiva abbiamo ideato insieme con te e con il maestro Pagliara un ambiente in cui grazie alla musica e al potere che la musica ha di evocare emozioni abbiamo invogliato i ragazzi a raccontare delle storie e raccontarle anche con delle immagini colorate così tu li invitavi a fare e sono emerse dei bei racconti che parlavano anche molto di loro e ci hanno aiutato anche a conoscerli meglio. Come la regia ci faceva vedere all'interno del nostro maxischermo l'aula laboratorio dove si è svolto il progetto li ha visti posizionati anche in una maniera un po' scomoda per fargli capire che stavamo rompendo la routine della classica docenza scolastica e dove il confronto con esperti del mondo della musica e della comunicazione li voleva non mettere in crisi ma in un certo senso provocare per far venire fuori appunto quelle che sono le loro sensazioni le loro emozioni dobbiamo dire che i ragazzi effettivamente non si sono fatti pregare perché poi la cosa importante è proprio questa tante volte aumentare sia il livello dell'ascolto che del coinvolgimento dei ragazzi perché poi loro restituiscono sempre di più di quello che gli si chiede. Bene, un progetto davvero molto interessante che ci faceva appunto piacere porre l'attenzione dei nostri telespettatori, ci sarà un seguito? Certamente, abbiamo un'altra serie di incontri che vi vedranno e ti vedranno coinvolto, ci auguriamo. Sì, io vorrei aggiungere che anche un altro incontro che arriverà a breve sarà con un'esperta nella fisioterapia per cui anche i ragazzi attraverso il movimento saranno liberi quindi di esprimere queste emozioni, quindi ci sono diverse cose in ballo e speriamo di portarle tutte avanti e tutte a compimento. Perfetto, noi invitiamo il nostro pubblico da casa a seguirvi sui canali social e sul sito internet dell'Istituto Tecnico Luigi Di Maggio di San Giovanni Rotondo e a magari far raggiungere proprio attraverso i canali social quelle che sono anche le vostre sensazioni, i vostri feedback perché nel mondo dell'educazione, della formazione, soprattutto con i ragazzi, avere un livello del confronto sempre molto ampio può essere utile per migliorare il nostro approccio con i ragazzi. Ringrazio le professoresse De Leo e Centola per essere state con noi qui stamattina e anche a loro facciamo un invito a risentirci tra qualche tempo per poter raccontare i risultati della loro attività, quindi buon lavoro e buon proseguimento di giornata. Grazie, buona giornata.